Buongiorno, ben ritrovati in un nuovo appuntamento in diretta. Con Buongiorno Dottore, qui dagli studi di Rete7 io faccio il bentornato al chirurgo plastico, Dottore Daniele Bollero, che ci ha raggiunto in studio. Allora, buongiorno Dottore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io intanto vi ricordo i contatti, come sempre, per intervenire in diretta nella nostra trasmissione. Allora, se volete telefonare e parlare in diretta con il Dottor Bollero, 011 0600 774, mentre, se volete mandare sms o whatsapp il numero, lo vedete, 348 80 40 254. Ricordiamo sempre la regola aurea, io dico così di solito, della nostra trasmissione. Quando telefonate, togliete l'audio al vostro televisore, comunicate unicamente dal telefono, altrimenti vi accorgerete presto del problema. Detto questo, è fondamentale, dicevamo abbassare a zero l'audio del televisore. Allora, Dottor Bollero, devo dire che mi hai incuriosito nel pretrasmissione con questo tema scelto per la puntata di oggi, tricologia, parliamo dunque di capelli. E allora, il discorso è molto ampio, ma per quel che la riguarda, vogliamo dire un po' di cose, insomma? Sì, il punto è che il titolo tricologia obiettivamente può essere difficile, ma si parla di capelli. Perché è importante aprire un tema di questo genere? Perché sicuramente a casa c'è gente con molta curiosità a riguardo. Per quello che mi riguarda, le curiosità ce le avevo anch'io, perché poi alla fine io facendo il chirurgo plastico e utilizzando la medicina rigenerativa ho iniziato a utilizzare il PRP per quello che riguardava la ricrescita dei capelli, stoppare la caduta. Curiosità per i suoi pazienti, non certo per se stesso, insomma. Eh, però anche qua gli anni passano e quindi bisogna tenere, anche se piano piano andranno viva. Questa è un'altra storia ancora, che non è quindi quello il punto patologico, cioè i capelli li perderemo tutti nel corso di anni, ma e quindi questa cosa mi ha incuriosito ed è partito un anno molto, molto importante per me, dove ho fatto il master di tricologia all'Università di Napoli e un paio di settimane fa ho conseguito il master con tanto di tesi, proprio una cosa seria, cioè a più di 50 anni sono tornato studente, no? E devo dire che alla fine è stato un percorso molto, molto interessante che ha portato a capire che questo è un problema sempre più sentito dalle persone, no? E quindi quello che succede è che comunque è una scienza nuova, perché di quello si sta parlando, si sta parlando di una scienza nuova dove ancora poco si sa riguardo ai trattamenti, non è facile trovare uno che fa il tricologo, perché appunto per questo è il primo master che ha fatto l'Università in tricologia di secondo livello, quindi già su medici laureati e specialisti. È una scienza che sta crescendo tanto, perché la medicina rigenerativa è sicuramente una parte importante, è una scienza che ha tanti falsimiti e questo io, devo dire la verità, mi ha anche molto divertito, perché la chirurgia plastica è piena di falsimiti, no? Abbiamo fatto una puntata soltanto sui falsimiti, no? E la tricologia è uguale, falsimiti sulla terapia, falsimiti sui trapianti, che sono due cose diverse, la terapia medica e i trapianti, e quindi in realtà il quadro è molto molto interessante. E quindi per quello che secondo me possiamo iniziare a fare un discorso di questo genere, parlando appunto su tutti i vari dubbi che avete da casa, effettivamente diventano importanti. Allora io direi anche per stuzzicare un po' l'appetito dei nostri telespettatori, partiamo da qui allora, dalle cose da contraddire, cioè dai falsimiti da abbattere, che ancora persistono, dottor Bollero. Sì, il primo falso mito è che non ci siano delle soluzioni per i problemi dei capelli. Il problema della soluzione a una problematica dei capelli è che sono tempi lunghi. Allora, il fine pena mai, quello che si dice quando purtroppo qualcuno non uscirà mai più dalle patrie galerie, ma invece anche in questo caso, essendo che i ragazzi giovani sono quelli che prima iniziano ad avere appunto il problema, perché se uno a 60 anni perde i capelli progressivamente, non è più una patologia, si chiama effluvio, i capelli piano piano si perdono, quindi in questo caso non c'è un trattamento, uno deve pensare che il tempo passa. Ma il ragazzo giovane che piano piano perde i capelli, in questo caso ha bisogno di una diagnosi, che normalmente si chiama allopecia, androgenetica, il grande gruppo di pazienti. E in questo caso questo tipo di pazienti sono pazienti che possono avere ottimi risultati con delle terapie, ma devono sapere che le terapie sono lunghe, lunghe per vedere il risultato, ma non bisogna mai smetterle. E quindi questo primo falso mito che possiamo togliere, nel senso che ho fatto il trattamento ma non ho visto niente, oppure ho visto il risultato e poi sono peggiorati. Bisogna continuare. Pazienza e perseveranza. Chiedo alla regia se abbiamo una telefonata. Pronto, chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno, come si chiama? Da dove chiama? Buongiorno, mi chiamo Vincenzo da Torino. Sì, prego, buongiorno. Allora, io molto tempo fa ho avuto la frattura del setto nasale. A distanza di tempo può dare problemi dopo l'operazione che è andata tutto bene per quanto riguarda quelle forme di bruciore all'interno del naso. Quindi è stato operato, signor Vincenzo? Sì, diciamo che ho avuto una frattura del setto nasale, poi un chirurgo plastico che era un mio amico che lavorava al Maria Rittoria, mi ha operato lui. Ma subito o dopo un po' di tempo? Subito o dopo un po' di tempo? Ho un po' di bruciore nel naso, tipo non so come definirla. quando hai quella sensazione di… Non so? Sì, sì. La mia domanda è, è stato operato subito appena dopo hai avuto il trauma o dopo un po' di tempo dal trauma? No, no, subito, subito. Ok, allora le spiego, spieghiamo a lei e Vincenzo e ai telespettatori cosa succede. Perché poi è sempre quello che dice Vincenzo, è sono stato operato, no? Allora, il concetto di base è questo, quando uno ha un trauma al naso e il naso si sposta, comunque non è ben allineato, si può fare un piccolo intervento chirurgico senza tagli che è la riduzione della frattura, lo stesso che succede anche io poi lavorando a CTO, quelli che hanno la gamba che si sposta, allora uno gliela deve rimettere a posto per rimetterla dritta, quindi è quello che è il concetto, se è stato fatto subito vuol dire che è stato soltanto rimesso dritto, no? Come idea. E poi dopo uno mette i tamponi e guarisce, ma non ha tagli. Se invece il paziente Vincenzo fosse stato, avesse avuto il trauma, fosse guarito e dopo sei mesi, un anno, no? Avesse avuto problemi di respirazione, allora in questo caso si fa un intervento chirurgico che è un taglio dentro il naso, quindi dei tagliatiri per avere l'accesso per arrivare dentro il naso e quindi si rimette a posto questa cosa. Quindi il concetto della chirurgia del naso appunto si divide in due grandi gruppi, una parte di tipo estetico, il naso si è spostato, è storto e cose di questo genere e una parte di tipo funzionale, respiro male, ho le crosticine, sento l'aria secca e cose di questo genere. Quindi qual è il consiglio di Vincenzo adesso che è passato un po' di tempo dalla sua riduzione delle ossa nasali, quindi soltanto questa incruenta, però il paziente viene fatto dormire perché farebbe male e quindi si cerca di agevolare il paziente in questi termini. Qual è appunto cosa dovrebbe fare adesso? Una visita da un otorino, cioè che sono gli specialisti che si occupano della funzionalità del naso che quindi con delle sondine potrebbe guardare dentro e capire se ci sono ancora delle ostruzioni. Se Vincenzo vuole arrivare al massimo dall'otorino, quindi essere più preparato e aver già studiato il caso, potrebbe già arrivare o con una lastra oppure se proprio vogliamo arrivare al massimo, al massimo con un attack che è quella che ti permette di valutare le tue deviazioni. Non per forza tutti devono fare l'attack, questo che voglio dire, non è che il messaggio è questo. Però in molti casi è dirimente, cioè un conto è dico io il mio parere, io posso dare il mio parere, guardare dentro e do il mio parere. Se ci sono invece uno vuole essere più sicuro, avere risultato definitivo sulla deviazione, l'attacca è quella che è l'esame migliore, un po' più aggressivo dal punto di vista di infilarsi nel tubo dove tutti hanno voglia, per avere quel tipo di risultato. Quindi io le consiglierei una visita da un otorino. Grazie. Grazie, grazie signor Vincenzo. Ecco questo ci dà l'occasione per ricordare, ovviamente siete liberi di chiamare su qualunque tema, non necessariamente sul tema di oggi, tricologia, quindi capelli, purché rimanendo, ecco diciamo, in ambito di chirurgia plastica ed estetica. Detto questo, 011 06 00 774, per le vostre telefonate in diretta, 348 80 4254, il numero per sms e whatsapp. Dottor Bollero, dicevamo il tema interessante che la regia ci propone. E poi la riduzione, ecco, questa è una bella immagine perché anche se è una immagine proprio da libro, no? Come idea, quindi da libro di medicina, si fa vedere che questo è l'intervento di riduzione delle fratture delle osse nasali, quindi uno prende un colpo e quindi bisogna raddrizzare quelle osse nasali. Come vedete, certo è una manovra cruenta, quindi è meglio che il paziente dorma per la sua, come dire, per evitare di avere dolore, però non è un intervento inteso con tagli e cose di questo genere, no? E quindi poi in realtà a quel punto poi il naso viene fatto guarire come qualunque altro tipo di frattura e quindi poi a un certo punto guarirà. Però anche nella guarigione potrebbe a lungo andare poi il paziente dopo non respirare bene perché come tutti i calli ossei ci potrebbe essere un callo osseo che diminuisce la respirazione. Non è prevedibile il callo osseo, anche uno che si rompe una gamba può sentire il sovraosso, come adesso per usare i termini, ma in realtà è il callo osseo, cioè la guarigione della frattura. Allora dottor Bollero, torniamo a noi perché c'era la parte interessante, insomma, visto che il problema dei capelli riguarda veramente una quantità incredibile di popolazione, compreso me stesso vogliamo dire, ma questo è un altro discorso. Allora, tra i falsi miti diceva entro una certa età problemi di alopecia e altri sono curabili purché ci sia pazienza e perseveranza da parte dei pazienti. Sì, questo è fondamentale, nel senso che quello che succede è che l'abitudine che abbiamo per tante tipologie di trattamenti è che tu fai una cosa e poi dopo tu deve essere risolta, tra virgolette. Invece per tutto quello che riguarda la patologia del cuore capelluto in realtà bisogna avere perseveranza e non ci sono trattamenti che fai una volta sola e ti danno il risultato definitivo. Questo, e facciamo il secondo falso mito, vale anche per il trapianto di capelli. Oramai questo tipo di cultura che abbiamo noi, che è una cultura social, che oramai il trapianto di capelli va tutto in Turchia, prima del covid avevo tutto in Turchia, quante te ne mette? 5.000, 10.000 e facciamo la gara chi è che metteva più capelli? Non è quanti capelli, altro punto, ma tu vai da quello, ma quello te ne mette 5.000, io vado dal mio e ne mette 7.000, perché non è valido per tutti, ci sono dei lavori bellissimi dove chi fa il chirurgo dei capelli ha dei software che ti permettono di capire quanti capelli puoi togliere prima che metterli, perché non è che tante volte non hai abbastanza capelli da mettere al paziente e quindi devi anche valutare l'area donatrice. Ed è anche vero che i famosi capelli trapiantati non durano per sempre, cosa vuol dire questo? Perché saranno anche loro soggetti vecchiamente a cose di questo genere, quindi quello che succede è che magari dovrei fare un secondo trapianto eventualmente o cose di quel genere. Risultati veramente molto buoni, però dopo un paziente così non può essere lasciato a se stesso, cioè come dire, va bene così, dovrà continuare a fare delle terapie per poter continuare a mantenere quel tipo di capello e fa parte ancora di quelle cose come dire, va bene lo provate tutte e allora adesso ho da fare il trapianto come se fosse la scorciatoia definitiva, invece sulle persone, sui colleghi seri che si occupano dei trapianti ho sentito veramente durante questo master persone veramente molto serie dove dicono non tutti sono dei candidati perfetti, perché se c'è una patologia, torniamo ad un altro punto fondamentale, che cosa è che si guarda quando uno deve fare un trapianto dei capelli o comunque quando deve fare un trattamento per i capelli, la qualità del cuoio capelluto. Se c'è una patologia della pelle, del cuoio capelluto, magari quella ti può sfavorire l'attecchimento dei bulbi, quindi devi prima curare il cuoio capelluto. Quindi iniziamo già a far capire che la strada c'è, ma ci vuole dell'impegno e cercare dei professionisti seri. Ecco da questo punto di vista qual è la condizione più favorevole, non malattie della pelle ovviamente, per dire sì, lei può provare a fare un importante trapianto dei capelli e quale può essere invece il problema, visto che lei diceva va poi curato, va poi mantenuto, il problema maggiore che può crearsi dopo? Sì, allora tutte le patologie, molte patologie sono di tipo infiammatorio, cioè l'alopecia, che tutti adesso ne parliamo, io mi ricordo da ragazzino, 20 anni fa, 30 anni, 40 anni fa, l'alopecia era quando uno aveva una chiazza sola, in questo caso si chiama alopecia areata, ma dell'alopecia androgenetica non se ne parlava 30 anni fa, 40 anni fa, quando io ero ragazzo. Che cos'è qui dell'alopecia androgenetica? Sono quei diradamenti che vengono i ragazzi, perché rispetto a un altro ragazzo io perdo più di capelli e dove li perdi? Sia nella parte superiore, un po' di distempiatura, ma soprattutto la vera l'alopecia androgenetica è quella dietro posteriore, quindi quello fa già diagnosi e quindi in questo caso questa è una materia di tipo infiammatorio e va bloccata sicuramente l'infiammazione. In quel caso che adesso la regia ha trovato un'altra foto bellissima, questa si chiama sempre alopecia, ma alopecia areata. In questo caso in realtà è come se la cute avrebbe subito uno shock e quindi cascano tutti i capelli, ma ci sono tutti gli elementi per poter farli risaltare fuori. Qual è peggio? È peggio l'alopecia areata o l'alopecia androgenetica? Dal punto di vista della socialità, quel paziente che ha visto lì, quando ha quel problema lì effettivamente è una bella botta, ma ha delle grandi possibilità di recuperare completamente. Chi è il paziente invece dell'alopecia androgenetica che perde i capelli irregolatamente ha bisogno di stoppare quel tipo di caduta e quindi sono quelli che a lungo andare potrebbero dare maggiori problemi. Quindi capite che diventa importante anche una diagnosi, non è che siamo tutti uguali. E poi c'è una terza, un terzo gruppo che sono chi non ha nessun problema ai capelli, che viene a chiedere di fare dei trattamenti per migliorare i capelli perché li sente come un punto di forza. Perché qua possiamo anche parlare di filosofia, cioè quanto è importante, cioè come dire, quanto è il cappello importante nella sicurezza delle persone, no? Beh, sappiamo che nel suo campo c'è tanto questo aspetto filosofico, diciamo psicologico, emotivo e naturalmente anche in questo caso. Allora, alla fine il trappianto è meglio per la, non ho capito bene, per l'areata o l'androgenetica? L'areata non è da trappianto, per definizione, in quanto è una tipologia veramente scioccante per chi ha questo tipo di problema, che però con una terapia può migliorare. Terapia che però quando noi poi ci confrontavamo anche con i colleghi, con i grandi esperti, terapia di 6, 8, 10 mesi, mesi. Allora uno deve stare in una situazione di quel genere di 6, 8, 10 mesi, poi piano piano i capelli rispuntano fuori se correttamente impostata. Quindi capisce che comunque non è, ho preso tre pastiglie, non ho visto niente, no? Buon cambio e salto da un altro medico, cose di questo genere. Quindi in realtà la costanza è legata al risultato sul capello a lungo termine. Allora 011-06-00774 per le vostre telefonate, 348-80-40254 per i vostri sms e whatsapp. Altri falsi miti? Beh, il falso mito, cioè il grande cambiamento di questa vicenda è la medicina regenerativa, cioè più che un falso mito, perché la gente in realtà ha poca credibilità ancora su queste nuove terapie, che invece oramai hanno una credibilità molto molto importante. Cosa vuol dire la medicina regenerativa? Utilizzare qualcosa del proprio corpo che permetta di rigenerare i tessuti. E allora quando, io mi ricordo benissimo questa scena, perché adesso ne parlo adesso, ma correva l'anno 2014, quando vennero da noi i rappresentanti del PRP del sangue, quindi PRP è una parte del sangue prelevata e opportunamente separata, quindi prendo il rosso del sangue e tengo il giallo per farci capire. E ci disse, se voi fate le punture in testa della gente, ricrescono i capelli. Qua era proprio a mitragliatore, però nel senso di dire non c'erano distinzioni tricologiche, quindi questo valeva per tutti. Cosa fai in questi casi? Prendi qualche tuo amico che vedi che c'è già qualche problemino e gli fai i trattamentini. Il risultato di questa vicenda è che tutti questi amici avevano dei ottimi risultati di questa cosa. Quindi piano piano noi abbiamo iniziato a fare tantissimo PRP, ma quello che succede è che sia anche aumentata una letteratura pazzesca. Adesso la nuova frontiera è il grasso, il tessuto di poso che contiene le cellule staminali, anche questo molto molto interessante, ma di nuovo non da soli, cioè non sono miracolosi, vanno inseriti con una diagnosi, una terapia, la lozioncina la devi mettere sì, la pastiglietta magari la devi prendere sì, ma assolutamente molto molto versatili perché comunque ti permettono di andare a lavorare su diversi punti. Quindi la terapia del PRP nel cappello per esempio, o della terapia della medicina regenerativa, si basa su tre punti. Uno, stop alla caduta, io dico tutti e tutti gli guardano e dicono come stop alla caduta? Non è vero che stop alla caduta, diventa una caduta fisiologica perché a tutti cascano i capelli, dobbiamo fare in modo che a tutti vengono una caduta di tipo fisiologico. Due, il cappello diventa più spesso, ipertrofico, come quando uno prende i boccettoni di proteine e quindi diventa bello gonfietto, lo stesso vale per questo tipo di trattamento, il cappello diventa più spesso e quindi sembra più pieno. E tre, in alcuni pazienti, soprattutto i ragazzi giovani, spuntano i nuovi capelli che non sono nuovi capelli ma sono i bulbi che erano addormentati, li tiriamo fuori e li facciamo risaltare fuori. Quindi capite che questa è stata la rivoluzione della tricologia, quello che l'ha fatto tornare a parlare, perché noi abbiamo gli studi pieni di PRP dove abbiamo il paziente che ha l'alopecia androgenetica, lo farà? Sì, lo farà, perché comunque fa parte della sua terapia. Il paziente che ha l'alopecia areata, quella con le chiazzette, lo farà? Sì, perché gli dà uno stimolo di ricrescita, ma anche chi ha fatto trapianto, perché chi ha fatto trapianto verrà nei nostri studi per fare queste punture di PRP che hanno lo scopo di rinforzare il cappello appena trapiantato. Sento una curiosità che mi è venuta in mente dottore, poi torniamo sull'argomento. Quelle macchinette che venivano pubblicizzate tanto tempo fa, per esempio del battito sulla nuca, c'è un valore medico, clinico oppure hanno un razionale, cioè quello che succede è che la tricologia è veramente una terapia un pochettino ad insalata, dove più cose possono favorire il risultato. E questa cosa qua del colpetto, piuttosto che noi lo facciamo con l'ago, quindi il needling, tutte le cose che danno un… comunque è preparato, perché comunque questo del colpetto è tornato in lungo, c'è un prodotto appena uscito italiano, che è ritornato, che era un prodotto che era da tanto sul mercato, che sta avendo tanto successo, che si chiama Tricopat, e questo è un prodotto che magari se la regia lo trova, è ovviamente una ditta per la carità, però è per far capire che ha lo scopo di dare dei colpetti alla cute fatto dal medico e veicolare in maniera transdermica, veicolare anche dei fattori di crescita. Ecco, questo è il macchinario, vedete che lì non ha dei microaghi, non li vedi per essere chiari, e quindi questo è quello che diceva lei, l'evoluzione un po' di più sul fatto di dare uno stimolo al cuoio cappelluto, torniamo di nuovo allo stimolo del cuoio cappelluto, dove la cute del cuoio cappelluto può essere una chiave per migliorare la qualità del tuo capello. Perché mi ricordo c'è il problema del sebo, c'è il sebo che diciamo generalmente non fa probabilmente tanto bene la tenuta del capello. altro punto veramente importante, ma è per esperienza, il problema è quello, grazie ma purtroppo è per esperienza. Il sebo tutti ce l'abbiamo, adesso mi spiace dovervi rivelare questa cosa. Chi più chi meno. Perfetto, quindi perché abbiamo il sebo? Perché il sebo serve per mantenere morbida la nostra cute dappertutto nel corpo. Quindi cosa succede in questo caso? Se voi andate a vedere, noi cosa facciamo sempre nella parte diagnostica? Andiamo a vedere il cappello con un microscopio che si chiama tricoscopio, che è il dermatoscopio del dermatologo, cioè io poi sono molto diretto, non è che la facciamo tanto da fighi, è comunque un ingranditore. Quindi in questo tricoscopio noi andiamo a vedere da dove esce il cappello, magari trovo un'immagine tricoscopica la regia, da dove esce il capello c'è un buchino e un craterino, quel craterino lì c'è anche sempre l'uscita della ghiandola sebacea. Nella patologia dell'alopecia androgenetica ci può essere una iperproduzione di sebo che banalmente va a soffocare il capello e quindi quello che diceva Matteo, ecco lo vedete lì, no? Quei piccoli, questo qua è un ingrandimento da 10 e vedete che come si vede poco il fusto che esce dal cuoio capelluto perché c'è tutto qualche cosina sopra che praticamente rimane questo sebo e quindi in realtà in alcuni pazienti si dà dei sciampi sebo regolatori per diminuire il sebo e quindi fare in modo che il cuoio capelluto rimanga più libero. E poi altra caratteristica del sebo è che il sebo è molto appetibile dai nostri microrganismi e quindi in realtà si creano colonie fungine, demodex che è un'altra cosa che non si approfitta che abbiamo sulla pelle e tutto questo contribuisce a dare questa sensazione di soffocamento che ovviamente il paziente non sente che però sul cuoio capelluto a lungo andare si risente. Quindi come è una strategia di questo caso di un paziente di questo genere che ha questa tipologia di problematica? Uno innanzitutto ci va la visita a chi fa il tricologo e quindi qualcuno che è in grado di fare questo tipo di visita. A quel punto si potrà partire da uno shampoo particolare che anche lì non c'è lo shampoo che fa smettere di cadere i capelli ma ci sono dei sciampi sebo regolatori piuttosto che che hanno uno scopo di fare il piccolo loro ruolo ma che comunque è importante. In seconda battuta si possono utilizzare delle lozioni. Una cosa importante di questa vicenda è che per esempio nell'alopecia endrogenetica è fondamentale utilizzare un goccino di cortisone nelle lozioni e quindi non è il minoxidil, non è la propecia, ma un goccino di cortisone può fare la differenza e quindi si mette l'idrocortisone butirrato che è un tipo di cortisone che sta molto bene in questo tipo di riduzione e quindi quello già può fare la differenza. Poi ci possono essere dei farmaci che aiutano a dare la vasodilatazione, minoxidil come dicevamo, la propecia di nuovo un altro tipo di farmaco, ha delle percentuali e quindi questa è una cosa che uno deve mettere tutti i giorni. Quello che succede è che una volta si facevano anche fare due o tre volte al giorno, personalmente io penso che io non lo farei mai due o tre volte al giorno perché poi il capello magari ti rimane un po' unto e così questo genere. Allora adesso si cerca di fare, cercare delle lozioni galeniche fatte dai farmacisti che ti permettono di utilizzarlo un paio di volte, o un giorno sì, un giorno no, come idea, tre volte alla settimana che diventa meno pesante anche fisicamente, però per almeno quattro, sei mesi e quindi questo è il primo traccio. Poi dopo puoi andare col PRP, quindi prima di arrivare al trapianto te la devi giocare. Certo, certo. Senta prima, poi volevo fare un po' un recap, una recapitulazione di quanto detto, se parliamo di forfora? Forfora fa di nuovo parte di quelle problematiche legate alla keratosi superficiale. Quindi in questo caso la forfora che può essere assolutamente fastidiosa perché ti casca sulle spalline e ti dà fastidio, in realtà è assolutamente innocua per quello che riguarda il capello perché si stacca molto più facilmente del sebo, è meno aggressiva rispetto al sebo. Però in questo caso utilizzerà dei prodotti di tipo keratolitico perché vede che sono delle squame, come se fossero delle squame sempre nel cuore capelluto, quindi non è più sebo ma sono delle piccole squamette. In questo caso uno shampoo keratolitico fa in modo di ammorbidirle e fare in modo di farle saltare meno via a pezzettini che quindi sono quelle che si vedono. Però dal punto di vista non è che se c'è la forfora ti cascano più i capelli, sono due cose assolutamente diverse anche perché in questo caso non è così soffocante come il sebo. Allora abbiamo forse un messaggio da leggere, lo andiamo a leggere. Buongiorno dottore, una curiosità, è vero che ogni capello bianco che si toglie ne vengono bianchi altri sette inoltre? C'è un modo per ritardare questo imbianchimento, magari con una maggiore cura o evitando il soleggiamento? Grazie Susanna Dacchieri che salutiamo. Io ci aggiungo una postilla dottore perché sul numero 7 io sapevo il numero di volte che può ricrescere un capello prima che poi non ricresca più e dopo che cade non ce l'hai più, ma il numero di volte che può crescere il capello è indefinito perché comunque quello che succede è che noi dobbiamo preservare chi? Il bulbo, quindi da questo bulbo può saltare fuori 50.000 volte su questo capello, anche perché il capello ha tre fasi, c'è una fase di crescita, una fase di caduta e una fase di riposo. E noi dobbiamo sempre fare tutti questi trattamenti di medicina rigenerativa, sono dei trattamenti che hanno lo scopo di andare a attivare quelli che stanno dormendo prima che dormano troppo e poi non si sveglino più, questo è un po' il concetto. Mentre per rispondere a Susanna, bellissima questa cosa qua dei 1x7, quindi bisogna fare attenzione a non tirarli perché sennò appunto scatta questo meccanismo indefinibile, non è vero, nel senso che fa parte di quelle cose di falsi miti molto importanti, non si può fare niente all'incanutimento dei capelli, dal fatto della colorazione, anche perché proprio per questo motivo noi abbiamo da sempre una grande storia di colorazione dei capelli, ce l'abbiamo avuto fin dai tempi degli egizi l'idea di colorare i capelli. L'invecchiamento sicuramente fa di cambiare tante cose nel corpo, tra cui il fatto di avere meno pigmentazione del cuore capelluto. Nella patologia, la patologia diventa quando una persona troppo giovane ha i capelli bianchi, ma nel corso della vita quello è assolutamente una cosa che andrà avanti per suo conto e su questa cosa devo dire che poi in realtà, pensate alle donne, le tinture e cose di questo genere, ormai se si va dai parrucchieri di certo livello, nessuno va a danneggiare il capello, quindi questo è un altro punto sostanziale, quindi non è la colorazione che va a danneggiare il capello, stiamo di nuovo parlando di una cosa dentro che è sempre il nostro famoso bulbo, che è quello da preservare. Non va mai a danneggiare il capello, ci sono situazioni di lavorazione sui capelli che possono essere pericolose? Il phon, per esempio, ci sono sempre in questa cosa la tricoscopia, si possono analizzare i capelli dove gli è entrata l'aria dentro, quindi l'asciugamento dei capelli con phon molto ravvicinato e con potenza molto forte può slaminare un po' il capello, voi dovete pensare che il capello è un po' come quello che vedete esternamente, è un po' come la cipolla, quindi è formato da tanti strati, se l'aria arriva dentro lo può un pochettino rovinare, così come le piastre lo possono un po' bruciacchiare sul lungo andare, il messaggio è sempre che il comportamento ripetuto, aggressivo nei confronti dei capelli non va mai tanto bene, mentre li possiamo coccolare molto di più, possiamo coccolare molto di più in tanti modi ed è stato veramente molto interessante perché i modi sono incredibili, tra cui anche che adesso va tanto di moda la vicenda dei probiotici, ma ci sono dei lavori molto belli dove dicono che la corretta equilibrio intestinale, il paziente ha i capelli più belli, guardate qua le varie tipologie di capelli che si possono avere. C'è una cosa anche molto interessante che mi ha colpito e devo dire che invece ho tantissimi pazienti, che c'è molta gente che se li tira via da solo, si chiama tricotillomania. C'è il proverbiale strapparsi i capelli come si dice? Sì, però c'è molta più gente affetta da questo problema di quanto uno non immagini e anzi, su determinate categorie quello che ci hanno insegnato è a focalizzare su questa problematica determinate categorie che vengono negli studi dicendo dottore ha i capelli che cadono e cose di questo genere, ragazzi molto giovani, aree particolari, nella fonte di stress può capitare che qualcuno, lui lo sa di farlo, dopo si pente, ma mentre sei lì lo arrotola lo tira, lo arrotola lo tira. Sorta di tic diciamo. Però è una patologia importante nel senso che di nuovo abbiamo molti dei nostri studi, molti pazienti con questa cosa che arriva buongiorno, c'era tricotillomania. Ho una ragazza che si toglie le ciglia e lei lo confessa e fa una terrenenza pazzesca perché allora in questo caso cerca di trovare una cura che prende la consapevolezza di questa cosa e quindi in questo caso, visto lo sforzo che ho fatto non me lo tiro più questo capello. Torniamo anche a una parte anche patologica che però poi dopo uno cerca aiuto e si crea un meccanismo. Guarda dove siamo partiti dal fatto della cura del capello e invece c'è gente che ti chiede un aiuto per spezzare questa catena. Certo, dovremmo avere una telefonata? Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buongiorno, sono Elena da Torino. Buongiorno. Volevo fare una domanda al dottore. Prego. In questo periodo che fa caldo, si possono fare la cura di integratori e fiale per la caduta o bisogna aspettare quest'autunno? Bravissima. Questa è una bellissima domanda perché, torno a quello che dicevamo prima, non c'è mai un periodo di stop in una cosa di questo genere. La cosa più importante è, secondo me, capire qual è il suo problema, perché poi dice faccio la fiala anticaduta. Lì, ni. Occhio a questa cosa qua, non c'è la fiala anticaduta, non c'è la lozione miracolosa. Gli americani negli anni 30-40, prima della seconda guerra mondiale, erano molto bravi a farli imbonitori, arrivavano con le pozioni miracolose, si vede in qualche film, ma comunque la pubblicità era piena anche nel mio mestiere della chirurgia plastica. Quindi in realtà non bisogna mai stopparla, fanno bene, soprattutto in questo periodo qua, perché il cappello comunque in questo periodo qua subisce anche una disidratazione legata al sole, quindi sicuramente importanti, così come sono importanti le maschere, l'idratazione cutanea, ma quindi può assolutamente non sospendere le terapie, soprattutto se si è trovata bene, anche perché rischia di verificare tutto quello che aveva guadagnato. Come abbiamo detto all'inizio, le terapie sui capelli sono delle terapie senza una fine. Questo non è per spaventare, ma è come quello della pressione. Io prendo la pressione, allora l'ho presa per due mesi, adesso la pressione va a posto, non la prendo più, mi tornerà la pressione alta e quindi in questo caso la cura dei capelli fa parte di quel tipo di cure che vanno proseguiti nel tempo. Grazie. Solo un chiarimento, chi sulla testa in tutte le zone sono forte e sulla testa c'è un cerchio dove mancano. Ecco, allora, molto difficile… Sì, sono piccoli però non crescono. Molto difficile, non si infoltiscono come nelle altre zone. Ecco, molto difficile dirlo senza vederlo, ma ci va un inquadramento di tipo diagnostico, perché avevamo detto, prima possibilità potrebbe essere l'alopecia areata, adesso magari vediamo se troviamo una immagine e facciamo vedere se è simile a quella che è a lei, però l'alopecia areata non è che sono piccolini, in realtà sono piccolini, che lei si è così brava di vedere, ma sembra un'area che non ci siano capelli, quello è la primaria, in questo caso bisogna fare una terapia un po' più importante, con anche qua di nuovo del cortisone. Due, secondo caso, può essere delle aree, questo può essere un quadro, no? Che non so come quello che dice lei. Sì, c'è proprio un cerchio sulla nuca, come me la chiamano la dierega, non so. Perfetto, ma questo è un maschio o una femmina? No, è mio fratello. Fratello, sulla nuca centrale ha l'alopecia androgenetica, ok? Quindi questo qua centrale invece è un discorso di alopecia androgenetica e quello che invece va fatto una cura un po' più a lungo, quindi ha pochi capelli, quindi un pochettino, con pochi capelli dice lei. Sì, ha messo delle fiale. Perfetto, ok, ci siamo. Non so se lei conosce. Quanti anni ha questo ragazzo? 54 qua. Perfetto, ragazzino, quindi come me. Quindi il concetto di questa cosa è che 54 anni in una situazione tipo così? Perché io adesso sono nell'altra zona. Ah, ok, non vede. Comunque, 54 anni, ha messo le fialette, effettivamente potrebbe già essere un quadro un pochettino più avanzato dell'alopecia androgenetica, quindi necessita sicuramente di un trattamento e di tanta pazienza continuativa ed eventualmente se poi rimane quest'area sempre un pochettino vuota, a quell'età lì si può correggere col trapianto e questi sono i casi dove secondo me diventa più facile correggere col trapianto, perché comunque se c'è un'area che non risponde alle terapie è molto difficile recuperare capelli a 54 anni. Grazie, grazie dunque 011 06 00774. Per le vostre telefonate 348 80 42 54, per i vostri sms o whatsapp, ecco anche qui andrei sul lato femminile di questo problema, intanto perché per esempio la perdita di capelli a seconda della causa è anche un problema femminile, meno ma è anche… e poi in generale se possiamo, cosa si può dire? È super femminile anche, perché quello che succede è che le donne, proprio perché quando hanno un problema di perdita di capelli, ma di irradamento, che nella donna può essere anche questa lopecia endogenetica, con caratteristiche un po' diverse per la carità, ma ci può succedere, ci possono essere questi quadri dove soltanto si ha una piccola diminuzione dei capelli anteriormente, qua come questo tipo di trattamenti con un po' di medicina rigenerativa si possono ottenere dei buoni risultati, buoni risultati che si aiutano sicuramente con la pettinatura, perché vedete che poi la seconda in mezzo avrà un dettaglio diverso, però in realtà le pazienti li vanno in tit perché hanno più fonti di confondimento rispetto a noi, perché sarà stata la tinta, sarà stata la permanente, sarà stato… e quindi si spaventano su che cosa, su magari errori che pensano di aver commesso, quindi anche per loro in questo caso il trattamento è fatevi seguire da qualche medico nel tempo, sappiate che nessun medico ha la bacchetta magica, date a questo medico un annetto per avere dei risultati e quindi poi si parte per un'avventura, molte donne arrivano da me con delle pinzette che magari coprono delle aree di diradamento, perché il diradamento poi parte da, come vedete qua a queste scale, parte praticamente con la riga centrale che le donne hanno, normalmente tutti hanno questa riga centrale, si può allargare un pochettino, però ci va tanta pazienza e tanta cura, ma vediamo anche giustamente tanta sofferenza da parte delle donne, però un po' di ottimismo è molto molto importante. Allora ci avviciniamo alla conclusione, io come dicevo farei un po' di ricapitolazione di quello che ha detto finora, cioè l'esempio classico, io mi accorgo che sto perdendo capelli, cosa posso fare? Ovviamente capire perché… Capire perché? Impostare una terapia, terapia che va con il coinvolgimento del paziente, cioè nel senso che non è, allora vado là, mi faccio fare punture in testa e non faccio nient'altro io, quindi sicuramente qualche cosa invece per bocca, non ho detto una cosa importante, tutti i pazienti che noi studiamo gli facciamo fare degli esami del sangue per andare a valutare eventuali carenze. Ci sono delle carenze di alcuni componenti ematochimici che possono dare dei stati di alterazione del capello, faccio un esempio, la vitamina D, adesso c'è il sole, tutti sotto il sole ma con la crema, perché la vitamina D che ha la carenza di vitamina D anche i capelli ne risentono, se prendete la foto di un bambino o vedete un'immagine di un bambino che ha un deficit di vitamina D, vedete che è sempre un po' speracchiato pure lui, poverino, quindi vuol dire che non è soltanto l'osso che non funziona, il rachitismo, ma che anche il capello ne risente, quindi questo fa parte anche un pochettino del trattamento. Altro punto fondamentale è l'applicazione di lozioni che si usano, si cerca di trovare una soluzione, le migliori sono quelle galeniche, togli qua, metti là, quindi galeniche vuol dire fatte dal farmacista sulla base delle vostre indicazioni, ti permettono di dare determinati tipi di trattamento. E poi grande futuro la medicina rigenerativa, trattamenti di PRP, nel futuro ci sarà il grasso, ma non sono mai definitivi, ho fatto il PRP due anni fa, male, il PRP è una cosa che invece ci vanno tre sedute, una al mese, queste, questo è il mio schema, altri le fanno uno ogni due mesi, non c'è uno schema ben definito, ma si cerca di fare in modo che il paziente abbia una copertura per circa un anno, dopo un anno si rifà il trattamento. Terza fase di questa vicenda, quei trattamenti che dicevai prima, ho avuto risultati, posso fare qualcosa nel frattempo? Allora sì, tutta una serie di altre tipologie di trattamento, come questo, il tricopat, piuttosto che la carbossiterapia, molti trattamenti che possono essere utilizzati. Tutti i trattamenti sul cuoio capelluto, dovete pensare che hanno soltanto uno scopo, migliorare, aumentare il sangue che arriva al cuoio capelluto, più sangue arriva al cuoio capelluto, più i nostri capelli, i nostri bulbi ricevono del nutrimento e quindi possono stare lì belli vivi e vegeti. Ultima spiaggia è il trapianto, e quindi tutti partivano per la Turchia prima, adesso invece, aspetta un attimo, al posto di fare catena di montaggio, mandiamo chi è che magari ha già una terapia appropriata, anche perché… C'è il turismo dentale, quello era il detuttore, in un certo senso il turismo tricologico evidentemente. Beh, voglio dire, è ovvio che loro avevano, anche questo mondo qua, questo è stato molto interessante, anche questo mondo qua, i più bravi, i più famosi a fare i trapianti di capelli sono gli indiani e pakistani. Mi ha stupito anche molto, mi ha stupito personalmente molto, uno perché loro vanno proprio veramente in maniera molto aggressiva e quindi più c'è una lassità di tutta l'organizzazione, dal punto di vista c'è in Italia 8 ore di intervento in una clinica avrebbe dei costi esorbitanti e quindi c'è il costo del lavoro molto basso e quindi di tutte le persone che lavorano, costi, come dire, una legislazione un po' più allargata, si possono fare ottimizzate. Poi è ovvio che indiani e turchi ne sanno tantissimo, perché comunque alla fine facendo 5 mila trapianti all'anno rispetto ai 300 che uno può fare in Italia, è ovvio che hanno un'esperienza assolutamente diversa, però secondo me hanno forzato anche un pochettino, perché adesso vediamo molti pazienti che dicono, sono andato, sì, però inizialmente sembra una grande cosa, poi piano piano, senza cure, rischia di perdere l'effetto. Questo trend. Va bene, io direi che praticamente siamo arrivati alla conclusione del nostro spazio. Allora, niente, su queste considerazioni anche di quello che succede nel mondo, 300 è un numero ancora basso, cioè evidentemente sono numeri ancora abbastanza bassi, ma da quel che ci ha raccontato per certi versi è anche un bene, cioè deve essere proprio lo step finale per curare i propri capelli. Allora, grazie ai nostri telespettatori e naturalmente grazie al chirurgo plastico, dottor Daniele Pollero, per essere stato con noi, a presto dottore. Grazie. E allora, buongiorno dottore, si chiude qui, grazie dunque per averci seguiti e come sempre buon proseguimento con i programmi di Rete7, a presto.